Ecco, una curiosità che non era programmata. Quando abbiamo inaugurato l'anno sociale 2012, abbiamo presentato una serie di filmati nostri per ricordare, anche perché coincide con il sessantesimo di Costituzione. Quindi la serata ufficiale dell'inaugurazione del nostro anno raccoglieva, presentava due filmati storici e alcuni nostri anche come rispetto per gli autori di ieri e gli autori di oggi. Tra il cambio di un DVD all'altro, un'opera all'altro, tutto ormai su DVD, sono formati dei piccoli spazi tecnici e sono stati occupati, ma una cosa improvvisata, però visto che ho avuto piacere anche sentirle, su come si realizza un film. E non per ultimo, proprio chi vi parla, il sottoscritto, da quasi 20 anni, se non di più, che è consigliere nazionale appunto della Fedici. Quindi, parallelo Bergamo-Romo-Bergamo-Fedici, è abbastanza interessante. Fedici, Federazione Italiana dei Cine Club, è una delle nove associazioni che sono inserite nel Ministero dello Spettacolo. Ed è l'unica associazione e federazione che invece si propone di divulgare, oltre che divulgare il cortometraggio, ma anche di produrlo. Quindi, a differenza delle altre associazioni, proprio la Federazione Italiana dei Cine Club è proprio quella che produce e divulga il cortometraggio in campo nazionale e internazionale. Però, nessuno pensa, perché siamo presi dalla storia che stiamo vedendo, cosa c'è dietro? Quindi, ho cercato di spiegare proprio velocemente come viene costruito anche un cortometraggio nostro. Il montaggio è un po' l'anima del cortometraggio, perché anche riprese fatte bene, ma un montaggio che non coincide bene con tutto quello, che non ha un ritmo costante, è lì che ci fa la differenza. Quindi, il montaggio è determinante, è l'anima del film.